Guardate chi ha vinto la Champions League ragazzi Non è il pescario che sto usando io, sono anche il Cittadella Eccolo qua, cosa vi dicevo io? Funziona sta cosa Il pescario l'ho lasciato con 400 milioni pieno di campioni E guardate chi ha vinto la Champions League Scusate Aspetta si vede Che palle Scusate